Il gesto semplice e significativo della processione che ha accompagnato la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto per le vie e le strade della città di Chiavari, con moltissimi fedeli raccolti al seguito, ha dato quattro indicazioni chiare al cammino della Chiesa Chiavarese di Ocesana. Le ha sottolineate Monsignor Alberto Tanasini al termine della processione che ha solennemente concluso i festeggiamenti patronali in onore di Maria. La processione, così come i vari momenti di preghiera che si sono succeduti in questi giorni, hanno innanzitutto ricordato il fatto storico, l'apparizione di Maria a Sebastiano Descalzo. Il ripetere il gesto significa dunque non solo commemorare, ma affermare che questa presenza continua, è certa. Inoltre, il gesto del cammino per le strade della città ricorda che siamo tutti pellegrini. Se la meta è Cristo, se il cammino è percorrere Lui che è la via, sappiamo che siamo sostenuti da Maria che suggerisce, che ispira, che sostiene, perché il cammino della vita ha bisogno di speranza, di fiducia, di forza. Riprendendo poi le parole del Vescovo Gero Marino nel corso del solenne pontificale pomeridiano, Monsignor Alberto Tanasini è invitato ad essere una chiesa che vuole camminare sulle strade del Signore, esprimendo così la volontà di essere fedeli al Vangelo, portandolo a tutti. Infine dal Vescovo l'invito alla città a guardare al futuro. Che la nostra città sia una città non ferma, ma capace di camminare, di camminare guardando al bene che è necessario, pensando a chi ha più bisogno di essere sostenuto. Ho parlato dei giovani, degli anziani, di coloro che rischiano di rimanere ai margini del cammino. Sono convinto che la nostra città vuole guardare al futuro.